Totti con i figli, i nipoti Noemi, la vigilia speciale del capitano. Natale in famiglia per Francesco Totti. L'ex capitano della Roma ha trascorso la prima vigilia di Natale ed ha separato con i figli. Christian, Chanel e Isabel, la mamma Fiorella, il fratello Riccardo e tre figli di lui. E Noemi Bocchi. Menu di pesce, regali, partite a carte e a tombola, il Natale di casa Totti è stato molto semplice. Lontano dal gossip e dalle polemiche. Il Natale di Lari Blasi nessuna indiscrezione social. Invece, per la vigilia di Lari Blasi. Nell'Eine le sorelle hanno condiviso sui social foto video della serata del 24 dicembre. Chissà se oggi, giorno di Natale, la conduttrice TV farà un'eccezione. Virgola.